Ed eccoci qui con Gelsomina e Casimiro, guardate Casimiro come si mette in posa per farsi riprendere mentre Gelsomina lì accanto si tranquillamente bea nell'acqua e non l'avevamo visti l'altro giorno, eravamo preoccupati per loro ma ovviamente loro erano andati a una gita, loro sono andati un po' in vacanza il sabato e la domenica ne hanno approfittato e sono ancora qui per noi Casimiro e Gelsomina che vi salutano dal villaggio San Pietro, Maiuri, Costa d'Amalfi. Un abbraccio a tutti!